Oggi voglio presentarvi in un modo particolare i 5 artisti che sono presenti fino al 15 maggio su Art Insight Gallery. Iniziamo da Beatrice Bartolini, che è una fotografa autodidatta italiana specializzata in ritratti creativi. Poi vediamo Gro Folkan, che è un'artista norvegese che si è formata all'Accademia d'Arte in Norvegia e le sue opere sono state acquistate da istituzioni, musei, banche. Come terzo artista, Art Insight Gallery ospita Stanley Gonzaski, che è un artista nato a Buenos Aires ma che vive in Cile e realizza questi collage digitali attraverso le quali con ironia affronta temi dell'attualità. Inoltre abbiamo Michelle Outley Voigt, che è un'artista statunitense pluripremiata, che attraverso una pittura di scomposizione fatta di prismi affronta il tema della condizione umana. Infine, come artista nella quinta sala, Art Insight ospita Anne Lund Wahlberg, che è un'artista danese che è paralizzata fin dalla nascita e dipinge con la bocca. I suoi angeli e le sue ballerine così eterie sono piene di energia e sono un vero e proprio invito alla vita. Scaricate Art Insight Gallery e godetevi questa nuova esperienza in realtà aumentata dell'arte contemporanea.